No, in realtà non c'è stato un salto di vento, c'era più pressione sulla sinistra Gallo ha girato il gate di sinistra per andare a destra Io e Benini abbiamo girato attaccati il gate di destra per andare a sinistra E lì sulla pressione, il salto sinistra che c'era stato, ho virato subito Quindi Benini è andato un po' e si è trovato più a sinistra di me E poi da lì sono riuscito a ritagliare bene Benini si è un po' interessato di più a venirmi a chiudere sempre Io invece ho virato nei momenti più giusti, ho ritagliato bene e l'ho passato Mentre Gallo era abbastanza lontano Benini dice che sei un cattivo allenatore Vero, è la verità Perché in realtà durante la regatta di Lasco, siccome si è avvicinato Lui di Lasco è stato un po' lentino Mi ha fatto, vedi, se non mi avessi allenato adesso non avresti avuto problemi E saresti scappato Invece sono qua dietro da capire al culo Quindi in realtà, quando te l'ha detta questa cosa? Adesso Adesso Ha detto che in realtà dice che sei un cattivo allenatore e un ottimo regattante Quindi devo tornare in barca Bene, mi fa piacere Come si è un cattivo allenatore e un amico